Daniele? Cosa stai facendo? Un esperimento. Lo vedo. Sai che noi utilizziamo sempre i cortelli da cucina Victorinox? Ah beh, certo. Volevo vedere se sono tutti forti e affidabili. Con quello? Eh sì, è Victorinox, è il multiuso più famoso che esiste e devo ammettere che come tutti i prodotti Victorinox non delude né tradisce. Tiè, guarda qua. Ma dai, ma tu hai fatto tutto questo con quello? Esattamente. Fantastico, dai fammi vedere. Guarda come Victorinox è l'azienda svizzera famosa per la qualità dei suoi prodotti, tra i quali troviamo quelli della linea Grammetro, pensata per la cucina di tutti i giorni ma scelta dai professionisti. Visita il sito victorinox.com e scopri la qualità Swiss Made. Daniele comunque per me non stai tanto bene. Beh certo, ci voleva questo per capirlo. Poi se continuo a frequentarti. Ah sì, eh?